Ciao, sono Lidia di Novelle Estetiche di Garbagnate Milanese. Oggi ti parlo di un trattamento innovativo, fantastico, meraviglioso, che è un trattamento anti-age, quindi un M20, fatto con un aerografo. Allora, il primo step è in assoluto quando la cliente entra in cabina mi vado a fare un'azione esfoliante, dopodiché vado a fare un antiossidante e poi un riempimento al tessuto. Riempimento in che modo? Hai presente quando una spugna la metti sotto l'acqua? Perfetto! Noi andiamo a riempire le rughe e quindi poi andiamo a fare un'azione liftante con una fiala a susseguirsi del trattamento. Le domande che solitamente mi fai, sempre le solite, ma il trattamento funziona? Quanto tempo dura? Allora, innanzitutto dura circa un'ora e venti, un'ora e mezza e poi dirti che lo puoi fare tranquillamente una volta al mese perché andiamo proprio ad agire a livello del connettivo, quindi andiamo ad azionare fibroblasti, lattina e tante altre chiaramente tossine che noi dobbiamo poi eliminare in secondo tempo. Quindi apportiamo un nutrimento al tessuto e andiamo ad agire chiaramente in profondità. È un trattamento che consiglio quindi una volta al mese da fare, tranne che ci sono delle problematiche di depressione, proprio di antirughi abbastanza profonde e magari lo si può fare una volta alla settimana e poi eventualmente sosteniamo con altri trattamenti. Il trattamento lo consiglio, un trattamento meraviglioso ed è da fare qui sempre dalla Nouvelle Estetique. Ciao a tutti, bacio!